e dietro il pub di maio a brognaturo c'è un altro stand particolare il maiale nero da spromonte qualità genuinità prezzi abbastanza appetibili ma guardate i prodotti come sono stati sistemati hanno messo una tovaglia marrone che richiama la terra la terra di calabria con l'aglio le varie creme il peperoncino che la bomba la ferrari di necolabresi dopo l'anduia e tutti gli amari vedete gli amari i digestivi i funghi e cipolle di tropea ma soprattutto prodotti a chilometro zero peperoni zucchine centrioli guardate c'è anche la filea al peperoncino la salsa la nocciola quindi prodotti che rappresentano non solo la calabria ma anche questo territorio delle serre calabria guardate che meraviglia quindi venite in piazza a brognaturo dove c'è il pub di maio che lo salutiamo vi mangiate un panino entrato in questo stand vi fate gli occhi e magari conoscete prodotti nuovi perché poi il maiale nero da spromonte anche non solo gli insaccati ma anche le carni quindi mi raccomando salutiamo la macelleria gastronomia di bruno piccolo che è il salumificio un saluto a tutti a Gigi da questa meravigliosa porzione di calabria perché questo stand rappresenta anche un po di questa nostra meravigliosa regione a Gigi da questa meravigliosa regione a Gigi da questa meravigliosa regione